Le previsioni meteo in Sicilia per mercoledì 9 ottobre di Globus Television. Mercoledì, pressione in aumento sulla regione. Giornata contraddistinta da generali condizioni di bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso su tutto il territorio. Temperature massime fino a 31 gradi, valori notturni in aumento. Venti di libeccio, mare molto mosso. Grazie a tutti.